Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Federica e oggi siamo qui per spiegarvi due cose Allora, scusate per il sottofondo se ci sentite qualcuno parlare Ma c'ho la bambina qua piccolina, che è la sorella di mio fratello piccolino Infatti ride, stiamo solo io e lei in casa e sto registrando il video Visto che non ho niente da fare E lei che mi ci guarda Allora Siamo qui perché vi volevo spiegare una cosa Allora Anzi, non una Due o tre cose vi devo spiegare Allora, prima Scusate per la settimana di Halloween che non vi ho portato niente più Perché praticamente non ho avuto internet Avevo avuto problemi con il wifi Non è il terramoto ma è lei la bambina Quindi non vi preoccupate E non sono riuscita a portare i vari video Ma se c'è i video che ho registrato Un attimo solo I video che ho registrato per Halloween Forse farà uscire mano a mano il sabato Ma sempre Se tutto va bene E sempre se mi piacciono ancora farlo uscire il sabato Non lo so Allora Mi stavo dicendo Questa è la prima cosa La seconda cosa è che vorrei far non uscire solo il video del sabato Ma anche un altro giorno della settimana Cioè il martedì Però il martedì forse lo farò uscire di sera Il sabato lo faccio uscire di mattina E quindi Poi ci metterò d'accordo per gli orari Mi metterò d'accordo con i più chiari Da sopra E vi diamo tutto Tre Per cosa? Niente raga Adesso cosa non c'è Pensavo che c'era Comunque raga Ogni tanto si fai concerti E tutto Comunque Vi stavo dicendo Stavo portando questi due video a settimana Così vi tornerò più un compagno Anche durante la settimana Questa è raga Scusate per la mia situazione Ma Questo è tutto Quindi Ci sono queste varie novità Di novembre Poi piano piano verranno tutto Perché Ho preso questa decisione Perché Ora ti direi tutti quanti Perché 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 Non lo so Ho un sacco di video da pubblicare E solo il sabato Aspettate un attimo Stavo rompendo il caricatore portale Poi uscire Solamente un video il sabato No? E mi riempisce solamente Una marea di memoria Che non ha l'idea Sia dal telefono Sia dal disc Sia dal computer Dal tutto E dire C'era raga E' meglio farci Non tengo più compagni Fatemi sapere voi Nei Nei commenti Se cosa ne pensate Raga E questo è il primo video del martedì Quindi Fatemi sapere se vi piace L'idea Bene Questo è tutto Un baso Al prossimo video Ciao Ciao